Oggi il nostro telecamere si chiama la Rua degli Albanesi, una rua dietro a Piazza Ringo, centralissima rua di Ascoli Piceno, come potete vedere c'è la telecamera, è video sorvegliata, ecco una rua che era in passato completamente imbrattata, il comune di Ascoli Piceno l'ha ripulita, purtroppo bisogna dire che da una parte è stata ripulita, dall'altra purtroppo ci sono le persone maleducate, come potete vedere fanno la pipì, orinano, ecco le immagini parlano da solo, ecco, a differenza di tanto tempo fa mi ricordo che era completamente imbrattata, i muri erano completamente imbrattati, la via era completamente sporca, invece grazie al comune di Ascoli Piceno, comune guidato dal nostro sindaco Marco Fioravanti, possiamo dire che adesso la rua è rimarrinata, completamente ripulita, guardate le facciate di questi edifici, sono completamente puliti, qualche, naturalmente, qualche imbecille, lasciatemi questa parola, ha continuato a sporcare, ma a differenza di prima, come potete vedere, adesso le mura sono completamente ripulite, guardate, prima qui non si poteva entrare, qui c'è rua Pietro della Scala, come si vede, completamente ripulita, adesso non ci sono più gli odori, prima qui mi ricordo che era tutto imbrattato, tutto sporco, adesso ci sono le telecamere, quindi diciamo che il comune è molto efficiente, guardate, ecco la telecamera, finalmente si può passare tranquillamente, ecco, guardate, tutto completamente ripulito, ecco la videocamera in fondo, naturalmente questi sono degli imbrattatori che hanno imbrattato queste, queste mura antiche, che non è facile ripulirle, perché sono mure delicate, ecco, non è, non è facile ripulire queste mura, ci vuole un trattamento speciale, però diciamo che queste altre mura, che vedete alla mia destra, sono state completamente ripulite, e gli abitanti sono contenti, perché prima non potevano neanche uscire, perché alla sera era un ritrovo di tossicodipendenti, ma soprattutto di imbrattatori, adesso non c'è più niente, perché ecco, telecamera, quindi il comune di Ascoli Piceno sta facendo grandi cose, non soltanto il sindaco, ma anche gli assessori competenti. Rua degli Albanesi, completamente rinata, grazie all'amministrazione comunale e grazie anche a lei, soprattutto. Sì, stiamo intervenendo in molte parti della città, riqualificando le aree, le ruole, le zone, ovviamente abbiamo una difficoltà, perché Ascoli è un territorio esteso, il centro è molto esteso e ci sono problemi anche in via dei Soterini e anche altre vie che stiamo facendo dei progetti. in ruole degli Albanesi con la telecamera e con la ripulitura delle mura abbiamo riqualificato quella via, purtroppo ancora ci sono degli incivili che purtroppo urinano, urlano di notte dei ragazzi che bevono nelle rue sotto le finestre, quindi inaspriremo ancora di più i controlli, noi cercheremo anche di avere una maggiore attenzione, però purtroppo non riusciamo a controllare ogni via e ogni zona. Però la ruola degli Albanesi è una ruola riqualificata con la telecamera, quindi riusciamo anche a individuare i colpevoli di atti incivili.